un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per un incidente avvenuto al chilometro 289 in direzione Bologna si sono formati 6 chilometri di coda e traffico bloccato tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, tratto chiuso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con 3 chilometri di coda e traffico bloccato sulle corsie di sinistra e per questo tratto chiuso ci sono 4 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud sempre verso Bologna. Per lo stesso incidente in direzione Roma ci sono 10 chilometri di coda e traffico bloccato tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Impruneta. Tornando verso Bologna rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia ed è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!